Benvenuti a tutti ragazzi da Sampo, tutti e tutti qua su City Skylines Sinkbox One X, ragazzi benvenuti a nuovo nel mio canale Come sapete vi ricordo di iscrivervi e lasciate un bel commentino ragazzi su questo gioco Se vi sta piacendo, mi piace abbastanza diciamo Non è che non mi piace Comunque ragazzi, se Diciamo Ah, vedo che vi piace un pochettino, vi continuo la serie ovviamente Bah, vediamo un po' cosa abbiamo sbloccato Abbiamo raggiunto 10.000, no, 1.000 abitanti E ci ha sbloccato altre cose Allora, la scuola e l'ospedale abbiamo fatto la settimana scorsa Adesso in teoria ci ha sbloccato pompieri E pompieri E polizia Quindi andiamo a metterci subito la caserma di polizia 12.000 E scusatemi Il fire department 12.000 Mannaggia, quanti soldi che mi costa? Ok, eh, tocca piazzarli qua Mannaggia, mannaggia Mettiamo il gioco super veloce Aspettiamo di arrivare a 12.000 E mettiamo subito Cosa mettiamo subito prima? Eh, potremmo mettere La prima, la polizia I vigili del fuoco Cos'è che mi rompe più le scatole qua? Ladri, ladri, ladri Ok La manca l'acqua Eh, ok 12.000 ci siamo Ok, perfetto Calma E allora Mettiamo prima i ladri Dai, ladri, ladri, ladri La polizia La mettiamo La mettiamo Se ci sta Qui Attaccato il coso Vabbè, dai Così mettiamo uno di fronte all'altro Perfetto Guardate qua Quante faccini Belle Ok Mettiamo il gioco di nuovo Di un gioco veloce Qua, vedete Ah, qua ci manca L'acqua, è vero Allora Facciamo così Tubo Scusaste Ma Allora, da qua Ermoli E che all'inizio Ho fatto un circuito Un po' di Ok Mettiamolo di qua Così E poi ci andiamo A collegare Qui Perfetto Adesso In teoria Questa qua Dovrebbe scomparire Doveste avere l'acqua Vediamo un po' Se è vero Hola Perfetto Qua ci sono i ladri Ma Che è successo Water pipe Carry fresh water Allora Water pipe Carry fresh water To the city And the sea We're out Pair must be connected To water pumping station And the water drain Ah ok Se basta che non fare loop Allora io ci metterei Se non costa tanto Eh no Ah ma questo qua Non mi serve Cos'è sta roba qua Cos'è che Sento dei rumori Ragazzi Di Ding ding Vabbè Vediamoci la nostra Mitica caserma Di polizia Eccola qua All'opera Vediamo se vanno A restarli Ragazzi Controlliamo Guardate che bello Anche il riflesso Dei lampeggianti Eh però Dovesti lasciarla passare Guardate che bella La pubblicità Anche tutto Beh è bellissimo Ha fatto bene Sto gioco Ragazzi Veramente fatto bene Ok Adesso Non mi prenda sotto Però quella lì Tutte le macchine Uguali Però parcheggiateli Vabbè Vediamo un po' Dove va Questo qua Verrà restato Perché Non è giusto Sparategli Perché deve passare Ok Vediamo un po' Hola Seguiamo la polizia Che è successo qua Ok Abbiamo sbloccato altre cose Ragazzi Ma le vedremo con calma Eh vai Au Au Perché salgo così tanto Do che aspettava Sta polizia Ok Arrivata 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 Vediamo Quello scappa Mo Entrano con Adesso vedete Che arrestano il tipo Beh Tutto lì Tutto lì Nessuno l'avete trovato Eh vabbè Ma allora Vabbè dai Vediamo quanti soldi C'ho 21.000 Ragazzi mettiamo La stazione dei pompieri Prima che mi costruiscono Altre robe La metterei qua io Quindi Dove caspita Rinne Stazione dei pompieri Nopolis Fire department E che grande Che è sto spazio Allora fatemi capire Beh non vorrei un posto Ok dai Ci sta dai Scusate se lo metto qua Vabbè mettiamo che ci espandiamo Verso di là Quindi La mettiamo qua E vai Perfetto Vediamo se partono Con la bandiera tedesca Ma Perché la bandiera tedesca Vabbè A che fare loro Mettiamo forse Stanno festeggiando qualcosa Ok Allora abbiamo richiesta Vedete in basso a destra C'è tanta richiesta Di case Quindi noi adesso Le accontentiamo Perché Gli servire Però Però Prima devo fare una strada Perché Qui Ragazzi Abbiamo del terreno Abbastanza inutile Quindi io direi Da qua Fino lì Boom Ok Adesso possiamo occuparlo Quindi con Le case Quindi questa Però Va bene dai No 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 Un momento Non devo sbagliare Perché Dopo sono casino Ogni volta Ok Di qua Si va di là Di qua Uguale E di qua Uguale Perfetto Adesso posso segnarvi Questo territorio Questo territorio Costruite Costruite voi Tranquilli Non c'è problema Eh però Prima che costruiscono È meglio che Ci faccio Una strada Di collegamento Così E così Ok Ok Vediamo che nome Gli hanno dato Rosemary Jackson Questa si chiama invece Gray street Green street Gray Ok Questa è sempre Gray Boo Hickory Hickory Boo Eh Anche questa Questa è la principale Invece Come Che cavolo Ah ma sono in pausa Porcaccio Peter street Raymond street Ragazzi Questa è la cosa Principale Ok Funziona tutto Abbiamo qua Però Cioè Io ho capito La concorrenza Però Ragazzi Guardate qua Sono distributori Benzina Qua Vabbè Ma è giusto Sull'autostrada Ci devono Sulla strada Principale Vai Vai Andate Però Potrei fare Una strada Di collegamento Anche da qua Là Che così Mi fa Tutta la zona Industriale Prima che Mi costruiscano Ogni volta Potrei farla Da qua Così Perché 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 non si collega Ok Vabbè Facciamo così E a limite Così Andranno Queste Che si va Per la zona Industriale Perfetto Vedete Così i camion Girano E non vanno A rompere Le scatole Al centro Perfetto Super Magari Da qua Se potessi Andare di qua Ancora meglio Perfetto Ragazzi Guardate che roba Guardate che roba Se non è fatta bene Super Super Ok Così il camion Lui se ne va In zona Industriale E noi siamo A posto Però sto notando Una cosa Molto divertente Vigilfoco Sono senza Acqua E Purtroppo Succede Allora Ma anche qua Siamo senza Acqua Allora Fatemi vedere Qua Dove posso Collegarmi Da qua E adesso Andiamo dritti Così No 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 Va bene Intanto Devo farla Comunque Così Di qua Ce l'abbiamo Un tombino Lo posso mettere No Ok Ah c'è il tombino Vediamo Ragazzi Totale C'è anche il tombino Guardatelo lì C'è assurdo Oh Adesso i vigilfoco Sono operativissimi Questo che è Il camion Della monnezza Io spero che il camion Della monnezza Ok Non c'è nessuna richiesta Ragazzi Di Bene o male C'è un po' di richiesta Di case Ma gli ho messo Tante case A costruire Vedete Loro stanno costruendo Mannaggia C'è una collina Spero che non mi darà Problemi in futuro Comunque qua I lavori procedono bene Mettiamo il gioco Leggermente veloce Soldini ne abbiamo Qua richiedono personale Vabbè Ok Questo penso che sia Tutta roba inquinata Inquinamento Ma comunque Stiamo separando Industria E Stiamo separando Industria E Case Diciamo Così Diciamo C'è questa linea in mezzo Che le separa Una bella strada Quindi l'inquinamento Tecnicamente Non dovrebbe far parte Dei nostri problemi I camion Se ne vanno Di qua Date che metto il gioco A velocità Normale Non in pausa Mi raccomando E Diciamo che Va bene Dai Secondo me Eh Un lock Service Unique Buildings Unique Blah 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 Ah ok Eh 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 buongiorno Quanto mi costa 210.000 Che ce li ha Unique Buildings Eh grazie a cavolo Mi sblocca La statua di libertà Che costa il disastro Che che me ne faccio Forse Forse Ah il football Però questo qua 200.000 Ragazzi Un momento Eh che cavolo Ce li ha tutti questi soldi Sì E buongiorno Cioè È un attimino Li metteremo Li metteremo Quando avremo Sbloccato Ovviamente Anche Le Eh Che cos'è sta roba District Painting tools Cos'è sta roba qua Ho mica capito io Eh Eres Bu Farming industry Proviamo a fare un farming industry Ce lo piazziamo Ma che ne so io Bu No momento Un momento Questo che cos'è Forest industry Oh qua c'è C'è tanto Forest Ma Ma non ho mica capito io Cosa devo farci con questo Non ci fa niente Con la X Ah con la X Vediamo un po' Bu Io sto premendo la X Non sto facendo niente Vabbè Eh Vedremo un po' Ma per adesso Lasciamo tutto così Come Come va Le case stanno costruendo Ragazzi Siamo arrivati a 1600 abitanti I soldi Stanno iniziando ad arrivare Abbastanza bene Eh Qua Non posso fare per adesso Nienta Che cos'è sta roba X school 24.000 Eh Dovremmo metterla magari La prossima volta Eh Toccherà farla Però Però Secondo me Adesso ragazzi Per adesso Siamo a posto così Ok Uh Posso fare canali E che me ne faccio Di un canale Fatemi vedere Posso fare Soil Avibli Soft Terrain Eh Patch Tree Ok Water Structures Eh Flood Wall Deep canal Mettiamoci un deep canal Costo uguale Costa Questo che cos'è Quay Ah man C'è la c'è Maca Mettiamoci un deep canal Sì ma da dove la piglio l'acqua Da dove la piglio l'acqua Da qua Bingo capito io Eh È che non vorrei rovinare tutto No No Non 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 mi fido Allora Qua c'è manca Qua c'è manca Qua c'è manca Un tubo Scusaste Move Tiro l'acqua Tiro l'acqua Giusto Si Si dice così E adesso da qua Vi attacco qua Poi vi attacco qua Ok si è collegato Dimmi di si No Si 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 Wow Ok Eh ho sempre paura Io ragazzi Di combinare un danno Ma va bene Ok Ragazzi Stiamo andando avanti Abbastanza Quindi Diciamo che possiamo fermarci qua Ragazzi come sempre Se questo video vi è piaciuto Vi trovate un mi piace Ragazzi Iscrivetevi al canale Se non avete fatto E noi ragazzi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video Sempre qua Ciao a tutti Ciao a tutti